Tutti in bici invece domenica prossima 30 marzo a Sandonà di Piave con l'escursione di 28 chilometri lungo gli argini del Piave e della Piave Vecchia organizzata dall'associazione Vivi alla Bici. Questa gita che rientra nel progetto Bici in Famiglia ha come obiettivo quello di avvicinare i cittadini al cicloturismo proponendo itinerari adatti a tutte le età. Partenza quindi alle ore 9 da Piazza Indipendenza dove si farà ritorno per le 12.30. Il programma e la mappa sono disponibili sul sito www.vivalabici.it